Cari ascoltatori di Radio Puggini, On Air è un momento emozionante per tutti i fan dei CDC. È ufficiale, la leggendaria band di Angus Young e Brian Johnson sarà in concerto in Italia, sabato 25 maggio 2024. Ecco tutte le informazioni che dovete sapere sui biglietti e sull'evento. La band, famosa in tutto il mondo per i suoi successi e i suoi spettacoli epici, si esibirà all'Arena di Reggio Emilia in un'unica data italiana durante il Power Up European Tour. Questo tour è dedicato al loro ultimo album in studio Power Up che ha scalato le classifiche in 21 paesi nel mondo. L'attesa è alle stelle per questo ritorno in Europa dopo più di otto anni di assenza dai palchi del continente. Durante il tour la band si esibirà in 21 spettacoli in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia ed Irlanda. I biglietti per il concerto italiano saranno in vendita esclusivamente sul circuito Ticket One online e nei punti vendita, attenzione, dalle ore 10 di questo prossimo venerdì 16 febbraio. Ogni account potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti e sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 aprile. Si raccomanda di non affidarsi a circuiti di secondary ticketing. Per quanto riguarda i bambini, quelli fino ai 6 anni potranno accedere gratuitamente al concerto, mentre dai 7 anni in su sarà necessario acquistare un biglietto intero. L'accreditamento per gli ospiti con disabilità sarà gestito dalla Ollus Mani Amiche. Le richieste potranno essere fatte esclusivamente tramite il sito maniamicheollus.org e saranno elaborate seguendo l'ordine cronologico di ricezione fino ad esaurimento posti. Per coloro che desiderano raggiungere Reggio Emilia comodamente, Frecciarossa sarà il treno ufficiale della tappa italiana. Saranno disponibili biglietti della speciale eventi con sconti dal 20% all'80% su trenitalia.com a partire dal 17 febbraio e saranno previsti anche treni speciali, il cui dettagli saranno comunicati prossimamente. Inoltre sarà presto disponibile sugli store digitali Barley Arts per ICDC, un'app gratuita per iOS e Android contenente tutte le informazioni utili sul concerto italiano. Gli ICDC sono una delle band più influenti della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. Dunque un'occasione da non perdere quella di assistere a uno degli spettacoli più attesi dell'anno e di vivere un'esperienza indimenticabile con una delle più grandi band di rock'n'roll del mondo. Grazie per averci ascoltato a Radio Puginioner e continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questo evento imperdibile e sulla musica, lo spettacolo e l'attualità, le notizie più importanti. Alla prossima puntata di Radio Puginioner.